La pandemia sembra non preoccupare l'amministrazione comunale che a 24 ore di distanza dalla cancellazione della varchiata decisa da Giuseppe Donato, comandante della Capitaneria di Porto, conferma le date del calendario degli eventi estivi. L'assessore Cristian Malluzzo, settore sport, turismo e spettacolo, ha rimodulato le date e accorpato alcune manifestazioni. Oltre alla processione religiosa in mare di interesse storico popolare, in onore di San Francesco di Paola, è stata cancellata anche la serata in Vino Gelas. Tutti gli altri appuntamenti sono stati confermati dall'esponente dell'Aggiunta Arcobaleno, nonostante i 992 positivi e il costante aumento dei contagi. Lunedì si erano registrati anche due decessi da Covid-19. In verità, l'assessore Malluzzo ha sempre mostrato una certa timidezza nel confermare gli spettacoli che caratterizzano la stagione in corso, parlando solo di eventuali cancellazioni o rimodulazioni delle date. Dopo una sosta forzata abbiamo dovuto rielaborare e riprogrammare tutto quello che è il calendario dell'estate, eliminando un po' tutti gli eventi all'aperto dove non era possibile condingentare il pubblico, dove non era possibile chiedere il Green Bus per l'accesso. Per cui è stato deciso da me e da tutta l'amministrazione comunque di seguire la linea di portare avanti l'estate in luoghi contingentati dove è possibile comunque un maggiore controllo. Da qui si è scelti quindi di continuare con le mura a Timolionte, con Piazza Roma, con Bosco Littorio e con l'ex carcere del Mura Federiciane. Molti eventi che erano all'aperto sono stati accorpati in un'unica serata e sono stati inseriti all'interno della programmazione di Piazza Roma. Altri eventi, come ad esempio il Pagliantino o come ad esempio il Palio, che non sono possibili da controllare a livello di pubblico e di partecipanti, sono stati cancellati. Ma speriamo in un miglioramento della situazione pandemiologica nella nostra città, noi ci crediamo e in quel caso potrebbero essere reinseriti nel programma perché sono e fanno parte appunto della tradizione, della cultura della nostra città. Restano confermate le restrizioni per partecipare agli eventi dove gli organizzatori saranno chiamati a monitorare gli accessi e le presenze. Ai vali chi verrà richiesto il Green Bus o una certificazione che accerti l'avvenuto tampone. Green Bus non vuol dire soltanto vaccino, prima dose o seconda dose, ma vuol dire anche un tampone con validità entro le 48 ore o ancora di più i guariti da Covid. Qui ci aspettiamo che la cittadinanza capisca l'enorme sforzo che stiamo facendo come amministrazione per garantire comunque alla città quella che è un'estate gelese tra le mille difficoltà. L'appello naturalmente alla vaccinazione, un unico modo per debellare questo virus è comunque vaccinarsi e rispettare quelle che sono le regole. Anche qui all'interno dei luoghi scelti per le manifestazioni ci sarà un distanziamento da garantire, ci sarà un servizio d'ordine che controllerà e vigilerà comunque sui comportamenti e sulle norme da rispettare.